Ancora cartoline dall'Italia e dal mondo, ho accolto il nostro invito a mandarci foto da Oltralpe Antonella che ci manda una foto da Lourdes, non è questa, questa invece è il buongiorno che ci manda Carmela da Francica. Chiedo scusa alla regia perché ho fatto tutto io, ho fatto un po' di confusione, quindi salutiamo intanto Antonella che da Lourdes ci manda questo scatto e poi Carmela da Francica che ci augura buona giornata e buon lavoro. Per il momento non abbiamo altre cartoline da condividere con voi, però abbiamo da condividere una bella storia, quella della confraternita San Michele Arcangelo, l'abbiamo detto a più riprese, tra la festa di San Pio e quella di San Francesco c'è la ricorrenza dei Santi Arcangeli e sul Gargano per noi è una devozione tutta particolare, molto forte, quella appunto dedicata a San Michele Arcangelo. Qui con noi in studio stamattina c'è Maurizio D'Alessandro, priore della confraternita San Michele Arcangelo che ci racconterà come si stanno preparando a questa festa bella e importante. Buongiorno Maurizio e bentrovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a te per aver ritagliato un po' del tuo tempo stamattina per raccontarci quali sono le attività che svolgete come confraternita alle porte di questa importante festività. Ecco, noi ci prepariamo ovviamente alla festa del 29 settembre, solitamente la dedichiamo soprattutto all'Arcangelo Michele, visto la nostra vicinanza con la Sagra Grotta Basilica di San Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo. Per l'occasione prepariamo il triduo, il triduo serale dove si recita il Santo Rosario, la coroncina angelica, poi la Santa Messa. In occasione poi della vigilia dell'apparizione di San Michele Arcangelo in Monte Gargano, quindi il 29 settembre, che cade anche con, come ha detto, la festa degli Arcangeli, prepariamo il pellegrinaggio notturno. Lo facciamo da alcuni anni, circa da una trentina d'anni, perché siamo andati a riprendere i vecchi pellegrinaggi che da San Marco in Lammis portavano a Monte Sant'Angelo. Noi siamo sulla via Francigena, siamo sulla via dell'Angelo, quella che porta da Roma a Monte Sant'Angelo, siamo sulla via Sagra Langobardorum. Quindi da San Marco, tempo addietro, partivano tre pellegrinaggi, due a maggio e una a settembre. Come dicevo, da trent'anni abbiamo ripreso anche questo pellegrinaggio settembrino. Lo facciamo di notte, lo facciamo di notte perché il pellegrinaggio in sé ha una valenza simbolica, quindi nel percorso che facciamo di introspezione, perché il pellegrinaggio è soprattutto quello, cioè metafora della nostra vita, si affronta, come dire, la strada della nostra vita con tutte le sue buche, con tutte le sue salite, le discese, ovviamente con le avversità atmosferiche, l'avversità che incontriamo nella nostra vita. Come dicevo, simbolicamente di notte, quindi la notte che c'è in noi, la notte che rappresenta, non so, pure i nostri peccati. Fino alla luce del giorno, infatti recitiamo anche le lodi mattutine, arriviamo a Monte Sant'Angelo, alle prime luci proprio dell'alba. Partecipiamo alla Santa Messa delle sette e mezza e poi ovviamente ci si riposa, ci si accosta ovviamente al sagramento della confessione, per chi non l'avesse fatto magari il giorno prima. Maurizio, ti faccio i miei complimenti non soltanto per l'importante lavoro che svolgete come confraternita, ma anche perché ci hai fatto entrare davvero nei sentimenti più vivi che vi animano e che vi aiutano ad organizzare tutte queste belle iniziative, di cui ne dà conto la vostra pagina Facebook che la regia ci ha fatto vedere. Questo invece è uno scatto molto bello dove tu guidi una processione, ci vuoi raccontare questa foto? Questa foto praticamente è lì a San Marco, come penso in altre città dove si venera l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele è venerato nel nostro paese molto, molto, diciamo, come dire, intensamente. Fa parte dei due momenti di pietà popolare più forti del nostro paese. Come sapete, San Marco e Lamis celebra il venerdì santo con la processione delle fracchie. Quello è il primo momento forte di pietà popolare. Il secondo è proprio la devozione all'Arcangelo Michele. Noi partecipiamo alle varie processioni, partecipiamo anche a quelle di altri paesi, che siamo invitati anche a partecipare alle processioni, espressione della pietà popolare anche in altri paesi. Proprio il 29 settembre si svolge la processione più importante, proprio in Monte Sant'Angelo, e tutta la confraternita nostra partecipa a quella processione. Siamo 250 iscritti. In abito confraternale siamo una quarantina a partecipare a questa processione. Bene, come dicevo, quanti volessero approfondire possono cercare su Facebook la pagina confraternita San Michele Arcangelo. La devozione all'Arcangelo Michele sul Gargano, lo abbiamo detto già stamattina, nel corso appunto della puntata, è molto forte, lo è da sempre. E anche perché, ecco, da un punto di vista proprio cronologico, San Michele appare sul Gargano molti secoli prima dell'arrivo di Padre Pio, sul Gargano di quest'altro grande santo, per cui non sorprende se in tante comunità il culto micaelico è, come ci diceva Maurizio, molto forte e molto sentito. Festa che culminerà il 29 di settembre, lo anticipava anche lui e domani con ogni probabilità sentiremo anche i religiosi della Sacra Spelonca di Monte Sant'Angelo, proprio per fare un focus sui programmi, sui programmi religiosi della festa di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. Maurizio, prima di salutarci, voglio ritornare sulla dimensione e sull'esperienza del cammino, anche perché quest'estate tu hai scelto un modo singolare per trascorrere le tue vacanze facendo il cammino di Santiago. Ecco, un parallelismo con quello che succederà sabato notte e un messaggio, ecco, in conclusione di questa bella chiacchierata. Il messaggio che posso dare, ovviamente, come è nata in me poi, come dire, la devozione all'Arcangelo Michele, di cui io addirittura vent'anni fa non sapevo neanche l'esistenza, quasi, perché ero il cristiano di qualche domenica. Poi ho subito un incidente in cantiere proprio il giorno, il 29 settembre, festa proprio dell'Arcangelo Michele. In modo così sorprendente non sono venuto a mancare ed ero straconvinto di morire quel giorno. mia madre, i miei amici, i conoscenti, mi hanno detto che avevo ricevuto una grazia da San Michele e così mi sono avvicinato alla Celeste Basilica e ho fatto voto, come segno proprio di gratitudine, ho fatto voto all'Arcangelo Michele di ripercorrere la strada dei pellegrini da San Marco in Lamis a Monte San Angelo almeno due volte all'anno. Lo faccio sia a maggio che a settembre. Ovviamente poi il cammino ti insegna tante cose. Se vent'anni fa ero più, diciamo, più frettoloso, ero magari più indifferente, oggi anche l'egoismo, se vogliamo, ha lasciato posto alla resilienza, alla pazienza, all'attenzione verso il prossimo. Se mi si dice che cosa rappresenta per me San Michele, per me San Michele è proprio una strada, un cammino. Ti insegna a vivere, ad essere in comunione prima con te stesso, con gli altri, con Dio. E questa esperienza, ovviamente il voto può sembrare come dire un impegno grave, in realtà non è un impegno grave, a meno per quello che mi concerne nel mio percorso dei venti anni. È un qualche cosa che mi arricchisce sempre di più, quindi ne senti la mancanza. E fai esperienza di bellezza, come quella di Santiago di Compostela. Ogni anno faccio in luglio, dedico una settimana delle mie vacanze, a un cammino. Ho fatto quello di San Francesco, dalla Verna a Poggio Bustone, si fa la Macerata a Loreto, il Divino Amore a Roma, quattro volte sono stato a Santiago, l'anno prossimo ci ritornerò, perché quest'anno è iniziato proprio da San Shan, un troncone di 200 chilometri, perché ho a disposizione, come dicevo, solo una settimana, e quindi i prossimi tre anni concluderò il cammino francese di Santiago di Compostela. Come dicevo, esperienza di bellezza. Se dovessi fare una chiosa alla mia esperienza, direi che credere non è solo importante, ma è l'unica cosa che conta. Grazie Maurizio, la tua è una testimonianza davvero bella, autentica, forte, e ci fa piacere di averla raccolta qui stamattina alle porte della festa di San Michele Arcangelo, per cui grazie ancora per la tua testimonianza. Maurizio D'Alessandro, il priore della confraternita San Michele Arcangelo di San Marco in Lamis, speriamo di ritrovarti presto nei nostri studi. Grazie a voi, pace e bene. Linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità con gli aggiornamenti a cura di Paola Russo.